Cioè ragazzi ormai è sempre in a sta stanza, è imbazzito facendo shopping su Bidu e l'abbiamo perso, ovvio, bel piumone, quanto l'hai preso questo? 5,33 euro anziché 49 euro, mi riscaldo con Bidu, questo bellissimo servizio di piatti, meraviglioso, meraviglioso. E questo lo potete vedere, l'ho preso, indovinate che posso mangiare fino con Bidu a soli 35,82 euro anziché 114 euro. Si segnano magari i prezzi, segnano anche i prezzi perché lui sta conteggiando il risparmio ragazzi, guardate che meraviglia ragazzi, i fondi sono tutti colorati. 35 euro anziché 114 euro, veramente. Ma sta avvenendo l'inverno, la stufetta elettrica, ragazzi costava 29 euro e subitù soli 7,82 euro. E poi ho pensato anche per le stagioni, macchinetta per gelati e yogurt, io sono a dieta. Ma che colore l'hai presa? Yogurt rossa. Bella rossa, ci sta in cucina. 0,50 centesimi, anziché 43,90. 50 centesimi? Si, evviva Bidu, evviva l'estate. Stiamo andando incontro all'inverno e poi friggitrice ad aria, guardate che meraviglia. Bella grande, 8 litri. Grandissima, è 8 litri, 10 euro e 85, anziché 85 euro. Ragazzi ho risparmiato 69 euro e 15 centesimi. Ora cuciniamo solo nella friggitrice ad aria che voi potete acquistare su Bidu. Appunto, dimmi un po' di sto sito. Allora, ho capito che in questo sito si fa shopping, si risparmia con le aste. Ci sono tante sezioni, abbigliamento, casa, cucina, hobby, giardinaggio, fitness, tutto. Ma c'è una sezione che vi può interessare. Ragazzi, fra un mese e dieci giorni è Natale. Acquistiamo il Natale su Bidu. Allora facciamo una cosa. Le spedizioni sono velocissime, ragazzi, perché arriva tutto in tempo record. Lasciamo qui il nostro codice. Ragazzi, registratevi su Bidu, inserite questo codice, il nostro, e noi vi regaliamo 30 crediti. Così potete provare anche voi a... Natale, 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 hobby, cucina, giardinaggio, fitness... Serto. Iscrivetevi su Bidu gratuitamente cliccando sul nostro codice IMDF. Avrete 30 crediti in omaggio e gli acquisti iniziano. E' contento. E' viva Bidu. Saluda, saluda. Ciao Bidu. No, vabbè. No, vabbè.